La FLC chiede risorse e investimenti per arginare i disagi nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico a rischio per mancanza di personale ATA nelle segreterie. Circa 2 milioni di euro recuperati attraverso il progetto controllo pensioni ideato dallo SPI e dal patronato Inca ha riordinato tutto il sistema. Bene trovati su CGL Bari Web TV. Apriamo parlando di scuola. Scuola sempre più nel caos. La FLC chiede risorse e investimenti per arginare il disagio che si sta diffondendo nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico. Disaggi che colpiscono indistintamente sia i docenti sia il personale ATA con gravi ripercussioni non solo sulle famiglie ma anche sugli studenti. Ancora a rischio è l'apertura dell'anno scolastico proprio per mancanza del personale ATA nelle segreterie. Sentiamo l'intervista al segretario generale della FLC CGL Bari Claudio Menga. La Puglia ha pagato migliaia di posti di lavoro, di docenti e di personale ATA, duemila dei quali sono l'esito degli ultimi tre anni dei tagli e dei posti persi nella sola provincia di Bari. L'organico degli operatori destinati alle operazioni per le emissioni in ruolo si è praticamente nell'arco dell'ultimo quinquennio ridotto ad un terzo. Oggi un terzo degli operatori svolgono una mole di lavoro paragonabile e addirittura cresciuta rispetto a quella che fino a qualche anno fa compivano il triplo delle persone. Quindi capite bene che ci sono ritardi dovuti innanzitutto al mancato ripristino del turnover in questi comparti del pubblico impiego. La situazione era stata denunciata già dall'anno scorso dai lavoratori del provveditorato, quest'anno è diventata eclatante. Bisogna capire che nella scuola per come è strutturata le emissioni in ruolo e le nomine a tempo determinato, le cosiddette supplenze annuali, quelle che concede per l'intero anno scolastico il provveditorato, hanno come campo di azione i posti lasciati liberi dai pensionanti. Se i pensionati escono dalla scuola, l'entità dei pensionamenti diventa nota con due mesi di ritardo, è evidente che tutte le operazioni a seguire subiscono un ritardo di due mesi. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché non c'è stata la volontà di trovare una risposta condivisa con le parti sindacali. A noi è stata semplicemente comunicata che la soluzione adottata nell'arco delle ultime ore disponibili per effettuare le operazioni di emissioni in ruolo era individuata attraverso una attribuzione di ufficio sia della nomina che della sede nella quale il docente nominato per l'immissione in ruolo veniva destinato alla scelta, veniva destinato poi alla scuola. Questo ha comportato che per la prima volta nella provincia di Bari le operazioni di emissioni in ruolo si siano fatte senza che il docente avesse la possibilità di poter scegliere la sede sulla quale operare la sua emissioni in ruolo, che è una sede provvisoria comunque, ma che tradizionalmente almeno nel primo anno veniva messa a disposizione nella loro totalità questi posti venivano messi a disposizione i docenti che liberamente sceglievano. È stata adottata invece un'ottica di operazione ed ufficio per la quale in base al luogo di residenza veniva assegnata la scuola più vicina. Questo è il vero dramma delle emissioni in ruolo di quest'anno, cioè ai ritardi che hanno caratterizzato le nomine ai docenti con tutti i disagi che si sono verificati va aggiunto il dato estremamente grave della difficoltà di fare le nomine per il personale ATA e oggi ancora ai primi di settembre non abbiamo notizia alcuna di quanti saranno i posti disponibili nella nostra provincia per le emissioni in ruolo del personale ATA e questo è molto grave. E sulle 521 i missioni di ruolo che riguardano i docenti nella provincia di Bari sentiamo come risponde il provveditore agli studi di Bari Giovanni Lacoppola. Il numero è bassissimo perché da anni le autorità ministeriali e quindi anche questo ministro che abbiamo in quest'ultimo periodo hanno sempre pensato al nord. Noi siamo il quarto provveditorato agli studi d'Italia e se siamo il quarto significa che siamo il quarto rispetto al numero sia dei docenti sia dei dirigenti scolastici sia del personale ATA e sia degli alunni. Si può sanare se cambiano idea i nostri politici ma vi dico di più i politici di qualsiasi partito che noi abbiamo in Puglia all'infuori di pochissime unità a nessuno interessa il problema della scuola. La scuola ripeto ancora una volta è diventata una scatola vuota. Abbiamo dimenticato che al centro delle nostre attenzioni doveva esserci lo studente e abbiamo tolto il futuro ai nostri ai nostri giovani per cui ritengo che se non ci si mette a tavolino e non si fanno delle leggi adeguate è bene che la scuola venga chiusa. Poi c'è un altro fatto. Da mese di giugno del prossimo anno gli uffici scolastici provinciali saranno trasferiti alle regioni. Non credo che le regioni siano in grado oggi a svolgere le competenze che riusciamo a svolgere noi. Un'altra cosa. Assenza di personale in tutti gli uffici d'Italia. Per cui ritardi ministeriali quest'anno noi stiamo lavorando di sabato e di domenica per dare la possibilità ripeto agli studenti di iniziare bene le lezioni. Può trattarsi di errore di calcolo, di una novità introdotta nel sistema o non recepita oppure ancora la domanda può non essere stata presentata nei giusti termini. Accade così che la pensione diventi ancora più leggera di quanto già non lo sia. Attraverso il progetto controllo pensioni, lo SPI, Cigelle Bari e il patronato Inca hanno recuperato circa 2 milioni di euro. I particolari in questo servizio. Già da lontano 2009, alla fine del 2009, insieme all'Inca nazionale, lo SPI nazionale e l'Inca nazionale abbiamo pensato a controllare le pensioni degli ex lavoratori andati in pensione. Lavoro che non si faceva prima, cioè si faceva la domanda di pensione ma il controllo successivo alla domanda delle pensioni non c'era. Abbiamo dunque nei primi mesi del 2010 cominciato un progetto in comune Inca e SPI sul nostro territorio, sul territorio provinciale e abbiamo controllato un numero consistente di domande di pensioni. Abbiamo contattato le persone che erano iscritte alla Cigelle, che sono in parte ancora iscritte alla Cigelle, li abbiamo chiamati, abbiamo insieme a dei nostri compagni, capilega dei pensionati, organizzato un lavoro di controllo delle pensioni, facendo chiedere loro ai pensionati diritti che non chiedevano perché non erano conoscenza e che però si ottengono solo tramite una domanda, non è l'Inps automaticamente che se tu non chiedi ti manda i soldi. Abbiamo organizzato il controllo pensioni insieme all'Inca che è il patronato deputato a fare anche questo lavoro e abbiamo fatto un team di pensionati insieme ai responsabili degli uffici Inca. Siamo come pensionati, siamo stati invitati dallo SPI ad intraprendere questa attività in modo volontario e questo fa parte anche del compito del sindacato, cioè quello della tutela e quindi nella tutela rientra il controllo delle pensioni che noi facciamo. Una volta elaborata la scheda noi prepariamo la sintesi e la comunichiamo all'operatore Inca invitando poi i pensionati ad aderire a questa iniziativa. Poi è l'operatrice Inca che concretizza tutta l'operazione. Devo dire che bisognerebbe invogliare di più i pensionati a partecipare a questa iniziativa in quanto c'è stata un'adesione del 50-60%. Una buona adesione sicuramente che va fatta aumentare. Sì, senza altro, con altre iniziative che senza altro lo SPI prenderà in considerazione. Sono in compagnia di Pasqualino Tomei, capolega SPI Conversano. Quanto è importante il passaparola? È importante perché fa conoscere ai pensionati qual è il campo dei loro diritti e quindi sapere ad esempio che c'è qualcuno che si interessa di queste cose li mette al corrente che comunque esiste da parte della CGL un servizio che tende a tutelare il pensionato. Un servizio che non è esclusivamente riservato agli iscritti CGL perché proprio attraverso questo passaparola si estende ad altri. Sì, infatti io non ho parlato degli iscritti CGL, ho parlato del pensionato perché il pensionato in senso lato è una persona che può essere iscritta come non può essere iscritta o iscritta addirittura ad altri sindacati dove noi non ci poniamo il problema della provenienza. Noi vediamo e verifichiamo e diamo questo servizio a chiunque ce lo chiede. Nel campo dei diritti c'è molto da lavorare e quindi il tutelare le persone significa anche dare, formare, fare in modo tale che le persone vengano a conoscenza di determinate cose in modo tale che possono poi successivamente garantirsi e tutelarsi individualmente. non solo, ma nei momenti in cui le si formano sono loro stessi, infatti con il passaparola, che attengono le informazioni, vengono a conoscere determinate cose e poi sono in grado e capaci di coinvolgere gli altri per venire a far le verifiche del caso per quanto riguarda questo aspetto specifico. Con Fabrizio Lojudice dell'ospici Gelle Altamura prendiamo in considerazione l'area murgiana. Che cosa emerge? Nell'area murgiana emerge che su circa 1300 pensioni esaminate sono circa 550 pensioni che effettivamente devono avere un concro incremento sulla busta paga. Gli importi arretrati che tutti i pensionati hanno avuto come incremento di arretrati sono circa 1.200.000 euro per un incremento sulla pensione, un incremento medio di 52 euro. Questi dati rappresentano la reale situazione delle pensioni che percepivano questi pensionati in maniera errata, cioè le pensioni non erano state calcolate in maniera corretta al tempo di emissione per svariati motivi. Dopo un accurato esame fatto con i nostri collaboratori dello SPI, pensionati dello SPI, noi trasmettiamo le pratiche telematicamente all'Inps e lo possiamo fare solo telematicamente perché non si può, la legge ce lo vieta portando il cartaceo. Quindi telematicamente chiediamo la motivazione della domanda e sottolineiamo anche il perché e noi comunque mettiamo in evidenza i contributi mancanti che l'Inps non ha liquidato all'atto del pensionamento. Questa verifica la facciamo attraverso un prospetto di liquidazione, come diceva Maria Antonelli la busta paga dei lavoratori, la busta paga dei pensionati è il modello T08. Noi risaliamo a quel modello, facciamo la verifica, controlliamo la posizione contributiva e assicurativa e di lì poi ci accertiamo se l'Inps ha omesso o meno alcune voci. Possiamo dire che ci sono tanti errori e omissioni e noi sulla base di quello procediamo poi alla verifica e alla trasmissione delle pratiche. L'Inps verifica e fino ad oggi ci sta dando ragione. I pensionati stanno riscuotendo somme che loro non sapevano di dover riscuotere. Quindi invito i pensionati che non hanno mai controllato la pensione di recarsi presso i nostri uffici dell'Inca dove sono presenti i compagni dello SPI che fanno questo lavoro insieme all'Inca. La busta paga i lavoratori la controllano, noi intendiamo controllare la busta paga dei pensionati, il reddito dei pensionati che è una cosa molto importante. Bene è tutto, grazie per essere stati con noi, potete seguirci sul nostro sito internet www.cglbari.it Arrivederci